Vediamo il benvenuto al programma cristiano dai nostri culti, registrazione di una predicazione della parola di Dio effettuata presso la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Prizzi, Palermo. Naturalmente in modo affettivo faceva finta di fare furbo, di non voler pagare esattamente le lumacchie per quello che ci eravamo messi d'accordo, ma comunque noi andavamo a lavorare fate attenzione a lavorare, andavamo a raccogliere queste lumacchie e non sentivamo il peso del lavoro, della stanchezza perché pensavamo al premio. Quando tu hai focalizzato il premio nel tuo lavoro la stanchezza non la sente. Le fatiche arrivano, la stanchezza arriva quando perdi di mira il premio o non credi che la fatica ti può portare un premio. Allora quando succede questo nella vita di ognuno di noi o anche nella vita del credente perdiamo il desiderio. E volevo parlarvi di una storia, prendere spunto di una storia della parola di Dio. Come ha detto il pastore Gioacchino, diciamo non vogliamo non dedicare il tempo alla parola di Dio ma ci abbiamo lì i fratelli del Consiglio e credetemi ce ne sono tre puntate verso di me lì in fondo, non so se è amore perché ogni tanto qualcuno fa cos'è. Nemmeno è iniziato, vedo che fa un gesto, non so che significa. Leggiamo secondo il re capitolo 4 dal versetto 8 a 16 E poi che è sempre la stessa storia di una donna su una mita, capitolo 8 versetto 1 a 6 Di questa storia, poi la potete leggere a casa per diciamo prendere meno tempo del capitolo 8, volevo leggervi semplicemente il versetto 13 E l'eseo disse a Ghegaz, dille così, tu hai avuto per noi tutta questa premura che si può fare per te, hai bisogno che si parla per te al re o al capo dell'esercito E lei rispose, io vivo in mezzo al mio popolo Ed l'eseo disse, ma chi si potrebbe fare per te? E Ghegaz rispose, certo, non ha figli e suo marito è vecchio E l'eseo gli disse, chiamala E Ghegaz si chiamò a lei e si presentò alla porta Ed l'eseo le disse, l'anno prossimo in questo stesso periodo tu abbraccerai un figlio E lei rispose, no mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva Al capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 6 Leggiamo dal versetto 4 Allora il re discorreva con Ghegaz, servo dell'uomo di Dio E gli diceva, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte E mentre appunto Ghegaz raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto Ecco che la donna in cui era stato risuscitato il figlio Venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre E Ghegaz disse, o re mio signore, questa è quella donna e questo è suo figlio Che Eliseo ha risuscitato Il re interrogò la donna che gli raccontò tutto E il re le mise a disposizione un funzionario al quale disse Falle restituire tutto quello che è suo E tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora Abbiamo detto che la nostra vita Dal giorno che siamo nati è fondata su una circostanza che avvolge tutti noi Che in ogni cosa che noi facciamo ci aspettiamo qualcosa, un premio Stasera vi voglio parlare invece non della vita quotidiana che possiamo avere tutti i giorni Dove più o meno puoi avere i tuoi risultati Ma vi voglio parlare del servizio a Dio Perché sicuramente su questa terra possiamo avere delle soddisfazioni Sicuramente in questa terra sia nell'ambito sociale, familiare, di amici Possiamo avere le nostre gioie e i nostri premi per il modo in cui ci siamo comportati Molte volte magari con tanta delusione Ma questa sera vi voglio parlare di un premio per eccellenza Che arriva direttamente da Dio Noi abbiamo un Dio che non dimentica L'uomo può dimenticare le promesse L'uomo può venire meno agli impegni che si sono presi nei nostri confronti Ma Dio no Amen? Alleluia Abbiamo creduto in un Dio Che non rimane passivo Davanti al servizio che noi possiamo fare a Lui Ma un Dio che è fedele Che non dimentica Abbiamo davanti a noi un esempio Ma voglio portarvi altri esempi stasera velocemente Questa donna Una donna che Su una mita Diciamo che non apparteneva al popolo di Dio Al popolo di Israele Ma Dio Dio Rimane sempre uguale Non fa le differenze Anche se si tratta di una sunamita Egli rimane in un principio fermo Alleluia Che davanti a Lui Color i quali si presentano a Lui E offrono un servizio all'Eterno Lui rimane fedele Questa donna Non sappiamo Il racconto Come parte Questo suo desiderio Di poter servire L'Iddio di Israele E serve l'Iddio di Israele Dando un servizio A un uomo Chiamato Eliseo Dice il versetto 8 Che un giorno Eliseo passava per Sunem E là c'era una donna ricca Che lo trattenne con premura Perché mangiasse da lei Così tutte le volte Che passava di là Andava a mangiare da lei Alleluia Io vorrei un po' di fantasia stasera Siccome sicuramente questa donna Non era obbligata Non è che ci parla Che aveva l'obbligo Di offrire il pranzo o la cena All'uomo di Dio Se non era un obbligo Certamente era Una gioia Del suo cuore Di offrire un servizio Quando parliamo di servizio Fratelli e sorelle Non dimentichiamo che il servizio A un prezzo costa Perché tante volte Noi pensiamo Che il servizio a Dio E quando io mi sento Io mi sento No, il servizio ha un prezzo Quando tu fai un servizio a Dio Non è questione se ti va o non ti va Lo fai Perché vuoi essere fedele a Dio Anche se ti costa del tempo Anche se ti costa delle rinunce Della tua vita Rinunce che possono essere Del tuo tempo libero Rinunce riguardo magari Che prendi del tempo Alla tua famiglia Al tuo lavoro a volte Ma quando tu paghi un tempo Un prezzo per il regno di Dio Dio non mancherà A compensarti Con il suo premio Questa donna Io sono certo Che non si aspettava niente Dall'uomo di Dio Ma riconosceva quell'uomo Come un uomo di Dio E non solo prensa Per poter dargli da mangiare Ma parlando col marito Gli suggerisce di costruirgli una casa Affinché dice a versetto 10 Quando verrà da noi Egli possa riposare Ritirarvi in sé Alleluia Alleluia Fratelli e sorelle Ho una grande parola per voi stasera Chi fa un passo per il Signore Dio ne farà 100 Dirette verso la tua vita Se tu fai un passo per Dio Dio ne farà Non dico 100 Infinitamente Alleluia Questa donna Ha un desiderio Non solo di poter dare da mangiare All'uomo di Dio Ma si prende cura Di costruire una casa Ma ditemi un po' Come poteva aspettarsi lei In quel tempo Che poteva arrivare un miracolo Un premio dal cielo Ma dice a versetto 13 Eliseo Cosa possiamo fare per questa donna Alleluia Nel momento in cui Tu svolgi un servizio Per Dio Dal cielo Parte una domanda Ma come Cosa possiamo fare Per Giovanni Per Maria Per Franco Per Giuseppe Cosa possiamo fare Per lui E fedele nel suo servizio Cosa possiamo fare Alleluia Fratelli e sorelle Una cosa è certa Gli uomini cambiano Ma Dio Non è mai cambiato Questa legge Non è mai cambiata Per Dio E questa sera Dio ti vuole dire Non perdere Il tuo premio Tu hai l'opportunità Di poter mettere Al servizio Il tuo tempo I tuoi doni La tua voce Tu hai la possibilità Di fare qualcosa Per Dio Alleluia Sai perché Tante volte Ci iniziamo a perdere Nel nostro servizio Allora io sono sicuro Fratelli e sorelle Se dovesse fare Una domanda Partendo da Carmelo Detto il Davide Arrivando poi A Francesco Detto Franco Io credo che tutti noi In un culto O durante una preghiera Abbiamo detto Signore Io ti servirò Signore Tu hai parlato Al mio cuore Stasera Ora Sono venuto meno Per tanto tempo Tante volte Ti ho promesso Fedeltà E sono venuto meno Ma stasera Io Signore Ti servirò Per sempre Non posso Venire meno Ho capito Signore Che tu sei Il mio Dio E pensiamo Che ora Da ora in poi Ce l'abbiamo fatta Ma non Ma non Tante volte Cosa che sa fare Che sa fare bene Rubarti Ascoltami bene Rubarti Il premio Lui sa Che se ti toglie Davanti il premio Tu ti stanchi E non fai più Il servizio O la promessa Che tu hai detto Addio Io con mio fratello Quando andavamo Una giornata intera A raccogliere le lumache Non ci stancavamo Perché Vedevamo Nella lumaca I soldi Guardavamo La lumaca E vedevamo La quantità Di soldi Che avevamo Recuperato Potevamo stare Sicuramente 18 ore Non ci rendevamo Conto Perché Vedere la lumaca E vedere i soldi Era la stessa cosa Il premio Fratello e sorelle Se tu vuoi Che la tua promessa Stasera Venga mantenuta Da te Non perdere Il premio Perché nel momento In cui tu Perdi Il premio Il pensiero Che Dio È fedele Tu ti stanchierai Subito Passano i giorni Come arriva il primo vento Come arrivano le prime difficoltà Subito hai dimenticato Le promesse Eliseo dice A Ghegazzi Cosa possiamo fare Per questa donna Ma questa sera Velocemente Vi voglio parlare Di un'altra persona Che ha goduto Del premio Questa persona Si chiama Jonathan Vi ricordate La storia Di Mefiboset Jonathan Aveva dichiarato Un patto Di amore Con Davide E Aveva fatto Di tutto Per salvare La vita Di Davide Potete Leggerlo In secondo Samuele Capitolo 9 In poi A volte A volte le prove Arrivano Delle persone Più vicine A noi Che vogliono Scoraggiarci A compiere Il servizio Che Dio Ci ha affidato Non meravigliarti Se davanti Dal servizio A Dio Qualcuno Viene E ti vuole Scoraggiare Di quell'impegno Che tu hai preso Con Dio Davide O Jonathan Viene scoraggiato Da suo padre Addirittura Viene rinnegato Da suo padre Per l'amore Che aveva Per Davide Per ubbidire A Dio Per ubbidire A quello Che Dio Aveva stabilito Nel tempo Nel popolo D'Israele Apparentemente Jonathan Fratello Giochino Muore Addirittura Ucciso In battaglia Sembra che Il suo lavoro Non ha avuto Nessun Premio Ma dice La parola Di Dio Che un giorno Davide Davide Pensò Io aggiungo Lo spirito Di Dio Ha parlato A suo cuore E si informa Che vuole fare Del bene Alla famiglia Di Jonathan Capitolo 9 Versetto 1 C'è ancora qualcuno Dalla casa di Saule Al quale Io possa fare Del bene Per amore Di Jonathan Alleluia Fratello e sorelle Tutto ciò Che tu Puoi fare Per il regno Di Dio Nessuna cosa Andrà a vuoto Dio non mancherà A dare Il suo premio E' una promessa E' una promessa Di Dio Il risultato Del servizio A Dio E' Che Dio Si impegna Con noi E a differenza Degli uomini Gli uomini Vengono meno Io ho avuto Imparo come si fa Poi te ne farò Così tanto Che ti faccio Stancare Una volta sola Fratello e sorelle Fratello e sorelle Anzi Gli ingiusti Vanno più avanti Vanno più avanti Questo 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 mefiboset Si meraviglia Di essere chiamato Dal re Era storpio Si definisce Un cane Addirittura Davanti al re Ma Davide dice Da questo momento In poi Tu mangerai Nella mia Mensa Questo è il mio È il tuo Dio Che non ti abbandona Mai Dio non si Dimentica Di ogni servizio Che tu puoi fare A Lui Anche se Il tempo A volte Ci parla Come se Dio È distratto Dio non è Distratto Dio è fedele C'è un orologio Che non è Il nostro Ma Dio Compie sempre Vi ricordate La storia Di Mardocchio Alleluia Tutti La conosciamo Aman Disegna Il sogno Di Farlo Impeccare Al palo Organizza Ogni cosa Ma Aman Non sapeva Che a Mardocchio C'aveva Dio Dalla sua parte Se Dio È con noi Cosa dice La parola Fatemi sentire Stasera Tutti insieme Se Dio È con noi Alleluia Se Dio È con noi Chi sarà Contro di noi Ma chi è Aman Che disegna La morte Noi moriamo Quando Dio Ha stabilito È suo tempo Né la malattia Né l'uomo Può Togliere La nostra vita Se Dio Non l'ha stabilita Alleluia Non posso Prendere Tanto tempo Vi invito A leggere Questo libro In Esther Questa storia Meravigliosa Aman Ne aveva Disegnato Tutto Di ucciderlo Di essere onorato Dal re E quando si presenta Dal re Lui era convinto Che tutto ciò Che andava Da Detto dal re Che voleva onorare Un uomo Era per lui Ma lui non sapeva Che Dio Aveva svegliato Di notte Il re Assuero Alleluia Dio non arriva Mai tardi Nella tua vita Fidati di Dio Fidati di Dio Non fidarti Dalla tua capacità Dalle tue Possibilità Dalla tua sapienza Se c'è qualcosa Se c'è qualcosa Che tu puoi fidarti Se c'è un ancora sicura È Dio Alleluia Anche lì vediamo Come Dio In modo straordinario Libera Mardoccheo Dalle mani Di Aman La storia Che abbiamo letto Adesso Di questa donna E offre un servizio All'uomo di Dio Gli dà da mangiare La casa E Dio Cosa prepara per lei Un regalo Che Non poteva Nella natura umana Poteva essere possibile Gli dà il dono Di un figlio Sembra che tutto Finisce lì Viene provata Fratelle e sorelle Quello che Noi dobbiamo Non dimenticare Mai Che Dio Non ci ha promesso Che abbiamo sempre il sole Nel tempo Della nostra vita Sulla terra Ci saranno Le piogge I venti Le difficoltà Ma dice il Signore Non ti preoccupare Perché Io sarò Con te Quindi Anche quando Tu questa sera Puoi essere Nel mezzo Di una bufera Della tua vita Gesù ti dice Non preoccuparti Non avere paura Perché io Sono con te L'importante È che noi Non facciamo uscire Dalla nostra barca Gesù Alleluia Guarda se nella tua barca Stasera Gesù ce l'hai ancora Perché se Gesù non c'è Allora è un problema Ma se Gesù è nella tua barca Dice ma c'è un mare Proprio Io non so come vengono chiamate Ma diciamo Avevo prima il fratello Tonino Che era istruito Ma non parla più Eh? Ok Un mare impetuoso Ma se Gesù è nella nostra barca I venti e i mari Ubbidiscono a Dio Alleluia Ma ancora Dio benedice questa donna E dice la parola di Dio Che Eliseo si presenta di nuovo A questa donna E annuncia Che c'erano sette anni Di carestia Dio si prende cura All'insaputa di quella donna E dice la parola di Dio Che Lei ubbidisce ancora una volta All'uomo di Dio Ma non sapeva Quello che si aspettava dopo E dice la parola di Dio Che dopo i sette anni Lei vuole ritornare Nuovamente A riprendere Ciò che possedeva Ma guardate Guardate che bello Questo aspetto Della parola di Dio Lei ritorna Finiti i sette anni Quella donna Tornò dal paese Dei Filistei Andò dal re A reclamare La sua casa E le sue terre Chissà Quanti dubbi Quella donna Poteva avere Mi crede il re Non mi crede Me li daranno Di nuovo La mia proprietà Non me la daranno Per caso Chi c'è nella corte del re Gli ragazzi Dio è fedele Fidati di Dio Fidati di Dio Perché Dio Compirà Nella tua vita Il progetto Che tu non puoi Mai Immaginare Dice la parola Di Dio Che mentre Lei andò Dalla corte del re Nella corte del re C'era Ghegaz Che stavano Parlando Delle meraviglie Deseo Che stavano Parlando Di lei E tutti Sappiamo Il racconto E concludo Che il re Gli dice A un funzionario Del suo regno Falle restituire Tutto quello Che è suo E tutte le rendite Della terra Da giorni In cui Lasciò Il paese Fino ad ora Sapete perché? Perché Egli Ella Ubbidì A Dio Fratello e sorella A volte apparentemente Per aver servito Dio Pensiamo Di aver perso qualcosa Ma non è così Per Dio Dio non solo Ci dà il premio Ma ci dà il premio Con la sua benedizione Voglio Concludere Non perdere Il premio Che Dio Ha stabilito Per te Fidati Di Dio Dio ci benedica Vi ringraziamo Per aver scelto Di ascoltare Il programma Dai nostri culti Possa il messaggio Glorioso Della parola Di Dio Trasformare La vostra vita E rendervi Figli di Dio Vi aspettiamo Ad una nostra Riunione di culto Presso la Chiesa Cristiana Evangelica Delle Assemblee Di Dio In Italia Di Prizzi Via Sandro Pertini Gli orari Sono il martedì E il giovedì Alle ore 20 La domenica Alle ore 18 E 30 Dio Vi benedica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti